E allora salve a tutti, Iannacone Luca del Palermo, Palermo 3, Sampdoria 8, com'è andata? All'andata avevamo vinto Saga 4, invece di torno è andata male, vabbè, nell'Europa Limpia c'è stiamo, abbiamo superato il cane, è molto importante. Siete pronti ovviamente per l'Europa Limpia, l'ultima partita l'avete con Turgoglia, grande spirito di Fair Play, grande spirito e grande agonismo, ci credete per l'Europa Limpia? Sì, con l'ultima 5 è meno fatto, però meno quelli. Complimenti a voi per il Fair Play, ci vediamo alla prossima, grazie Luca, è solo passione. Salute a vinto!